Garanzie dal governo su attività economica. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga le ha richieste specificatamente al termine della riunione pomeridiana fra governo, regioni, province, autonomie e denti locali in merito al decreto sull'estensione del Green Pass. Il decreto che entrerà in vigore dal 15 ottobre vedrà l'Italia quale primo paese europeo in cui non si potrà entrare in fabbrica, in ufficio, negli studi professionali e in qualunque altro luogo di lavoro senza un Green Pass valido in mano. Il confronto con i leader sindacali è stato serrato e anche aspro ma il presidente del Consiglio Draghi ha tirato dritto. La violazione dell'obbligo di avere il certificato è punita con una multa che oscilla fra i 400 e i 1000 euro e può essere aumentata in caso di contraffazione del documento. In questo caso può scattare anche la denuncia. Fedriga durante la riunione ha chiesto anche di prevedere un ulteriore calmieramento del prezzo dei tamponi ed estendere la validità del loro esito da 48 a 72 ore. Una richiesta che ha uno scopo preciso se vogliamo in prospettiva ridurre le tensioni sociali e accompagnare i cittadini verso una scelta responsabile, quella cioè di tutelare la loro stessa salute e quella della comunità senza alimentare, secondo Fedriga, contrapposizioni frontali e scontri radicali. Il presidente del Friuli Venezia Giulia però guarda avanti. Questo come deve passare un messaggio fondamentale ovvero che con il Green Pass anche se una regione dovesse diventare, mi auguro così non sia ben chiaro, ma arancione o rossa le attività potranno rimanere aperte. Non possiamo affrontare la pandemia come lo scorso anno dove si chiudeva e basta. Oggi abbiamo nuovi strumenti e questi nuovi strumenti devono essere utilizzati anche per dare garanzie in prospettiva.